Buongiorno a tutti, sono Paolo Bernini, ho 28 anni, gestisco un allevamento di vacche da latte qui in provincia di Mantua, 100 capi in lattazione, il latte viene destinato alla produzione di una DOP, il grana padano, quindi faccio all'interno di un sistema di qualità di una DOP. Siccome anche io avrei iniziato con qualche numero, come aveva fatto il nostro portavoce in regione, sull'agricoltura, invece che ripetere gli stessi numeri voglio rispondere al signore di una interessantissima domanda che ho fatto prima, io sono un allevatore, ricevo un aiuto dall'Unione Europea, questi soldi sono un pagamento diretto, quindi diciamo a pioggia, ci sono dei controlli, la risposta è chi li fa? La risposta ve la posso dare io perché i controlli li ho e li ho avuti e li avrò anche in futuro. Alcuni tipi di controlli vengono fatti dall'ASL, quindi ad esempio io non allevamento, annualmente mi vengono controllare il registro dei farmaci, il registro dei trattamenti, anche questo fa parte della condizionalità per la PAC. Altri controlli potrebbe venire l'ARPA, quindi rispetto della direttiva nitrati e lo smaltimento dei reflui zootennici. Altri tipi di controlli sono quelli che vengono fatti appunto prima dalle regioni, oggi dagli stessi funzionari che erano assunti dalla regione che sono stati spostati alla regione Lombardia, province che sono stati spostati alla regione. Quest'anno sono stato sorteggiato, è stato uno dei fortunati in provincia di Mantua sotto controllo, anche per la parte che riguarda questi funzionari della regione Lombardia. Cosa controllano? Controllano di tutto, dall'anagrafe zootennica, quindi ogni capo ha un orecchino, è iscritto a una banca dati, corrispondono? Ci sono tutti? Ogni capo ha un suo passaporto, è una sorta della nostra carta di identità, di chi è figlio, di chi è nato, quando è nato, ci sono tutti? Sì? No? Altri tipi di controlli sono la gestione di rifiuti. Un'azienda agricola sembra assurdo, ma oggi un'azienda agricola non può andare in discarica a consegnare dei prodotti o non può mettere fuori un bidone della spazzatura, perché non è tassata secondo le tariffe, tasi comunali e quindi un'azienda agricola deve arrangiarsi, deve chiamare uno smaltitore, una ditta smaltitrice di rifiuti, pagare giustamente, però dico che finché è un'azienda di certe dimensioni è spinta anche a fare questo tipo di politica. Piccoli agricoltori, piccole aziende, riuscite a capire che tutto questo è molto complicato. Controllano appunto lo smaltimento dei rifiuti, controllano anche, sempre anche l'asle, il benessere animale, quindi come sono sostenuti i vitelli, come le vacche, gli spazi, i metri e quindi appunto i controlli ci sono, almeno in regione Lombardia ci sono, poi troverete sicuramente qualche articolo di giornale in cui dice che l'Italia è stata sanzionata anche dall'Unione Europea perché i controlli non sono abbastanza. Questo dipende anche dai vari organismi di controllo che come sapete sono regionali, quindi in regione Lombardia ha un organismo pagatore che deve anche controllare, oltre che pagare, e non tutte le regioni ce l'hanno ma buona parte, quindi è una competenza anche regionale, soprattutto regionale quella dei controlli. Niente, tornando al discorso che avevo preparato, se apri qualche slide, io ripartirei da qualche dato, qualche dato, riparto quello della consistenza media che hai già accennato prima e volevo far vedere una differenza sulla consistenza media dei, c'è anche il pdf se non riesci a aprire il powerpoint. La consistenza media, abbiamo visto che negli anni è aumentata sensibilmente, io parlo della consistenza media dei capi negli allevamenti, tuttavia nei bovini la consistenza media è aumentata in modo meno drastico rispetto ad altri due settori molto importanti in Lombardia, che sono, vai avanti nella slide, che sono quello dei suini e quello degli avicoli. Infatti, mentre per i bovini siamo arrivati adesso con i dati aggiornati nel 2016 a circa 133 capi, nei suini già nel 2010 rispetto all'anno 2000 eravamo passati da 600 capi per azienda a 1800 capi e negli avicoli nel 2000 eravamo a 3000 capi per azienda e siamo passati a 11.000 capi per azienda. Questo secondo me non è tanto a un allevamento intensivo, a me non piace chiamarlo intensivo, a me piace chiamarlo che secondo me l'agricoltura si sta industrializzando, si sta standardizzando. Questo nel settore degli suini e nel settore degli avicoli. Cosa è successo? I redditi sono crollati ancora di più rispetto al settore del latte. L'allevatore è stato costretto a dire o chiudo o cerco una soluzione per andare avanti. La soluzione è stata quella di dire mi affido all'industria alimentare. Quindi cosa è successo? Che l'industria alimentare ha fatto un'integrazione a monte, cioè ha acquisito gli allevamenti e ovviamente con l'imprenditorialità dell'industria si sono trasferite quello che è successo dieci anni fa nell'industria, quindi le varie economie di scale, economie di settore, anche al mondo della produzione primaria e quindi anche questo settore. Questo sta avvenendo anche nei bovini, però ovviamente le tempistiche sono diverse, probabilmente se non cambierà qualcosa è quello che accadrà nei prossimi anni anche negli allevamenti bovini e appunto io voglio parlare non tanto di intensivo ma di standardizzazione del processo. Spesso la parola intensivo è collegata a una che l'allevatore vuole aumentare il suo reddito. Secondo me invece l'allevatore è stato spinto a un allevamento intensivo per ricercare il suo reddito, cioè lui cosa è successo? Si è visto portare via sempre più reddito e ha sempre detto ma forse se ho dieci vacchi in più riesco a riguadagnarlo con il reddito, se ho duecento suini in più forse lo riesco a recuperare. Un numero che voglio aggiungere alla slide successiva è quello dell'importazione delle materie prime agricole soltanto in regione Lombardia, non si sta parlando di Italia. I cereali, visto che abbiamo detto che siamo una delle regioni più agricole d'Italia, nonostante questo stiamo importando nel 2015 402 milioni di cereali, ne esportiamo circa 10 milioni, cioè niente, ne importiamo e basta. Frumento duro è quello che ci si usa per fare la nostra pasta, 22 milioni di euro di importazione, il 72% viene dai paesi UE a 15, l'85% viene aumentando la platea, la UE 28. Il frumento tenero utilizzato per le farine, panificati, biscotti, 116 milioni, qui la UE a 15 contribuisce soltanto con il 44%, la UE 28 si sale a 68. Il mais, visto che è la cultura più coltivata in Lombardia, nonostante questo ne vengono importati 182 milioni, ne vengono importati non dai paesi ricchi dell'Unione Europea, cioè l'UE 15 che è soltanto l'11%, ma ne viene importato dai paesi dell'est o addirittura extraeuropei. Il riso negli ultimi anni sta avendo degli aumenti di importazione pari al più 300%, anche se nonostante il valore attualmente sia molto più basso rispetto a quello delle altre culture. Se vai avanti, c'è le importazioni anche di animali vivi 248 milioni, non abbiamo abbastanza animali, si vede, o non riusciamo a farli. I bovini, la maggior parte, sono soprattutto quelli legati alla produzione di carne, non alla produzione di latte. La linea vacca-vitello in Italia è già scomparsa, quindi si compra il vitello dalla Francia, dove evidentemente sono più bravi o costa di meno farlo, e poi si alleva all'ingrasso soltanto in Italia. Questo sta succedendo anche un po' con i suini e un po' di meno con le vacche da latte, ma anche lì la tendenza è quella. Le carni fresche e congelate, quindi la carne, ne viene importata 1 miliardo e 122 milioni, 1 miliardo e 122 milioni, soltanto in regione Lombardia. Le carni preparate o lavorate, o anche i prosciutti o qualche carne stagionata, 94 milioni. Prodotti lattiero caseari, 1 miliardo e 258 milioni, evidentemente di latte in Lombardia non ce n'è abbastanza. Mangimi, i mangimi e il valore vengono importati sempre di più, e il mangimi è aumentato, per esempio siamo arrivati a 725 milioni di euro. Sui mangimi voglio fare una piccola provocazione, spesso siamo contrari alle coltivazioni OGM, io non sto qui a dire giusto o sbagliato, però in quei 725 milioni di mangimi che noi importiamo, quasi tutto è OGM. Quindi io dico sempre che in Italia negli ultimi 30-40 anni non si sono mai volute fare delle scelte belle drastiche, belle definitive, quindi magari votiamo no all'OGM in Europa e poi ne facciamo entrare quanto ne vogliamo. Andiamo avanti. Questa è la catena del valore, dati ISMEA 2015. Su 100 euro che voi spendete per comprare un prodotto agricolo non trasformato, ad esempio 100 euro di insalata, 100 euro di zucchine, 100 euro di mele, quanto va all'agricoltore? Nel 2000 andavano 17,5 euro, nel 2009 ne vanno soltanto 11,9 euro. La fetta più grande, che nel 2000 era 68 euro e nel 2009 72 euro, ovviamente è la grande distribuzione, i trasporti, le trasformazioni. In questo grafico si può anche vedere che nei 100 euro che spendiamo per i prodotti agricoli non trasformati, nel 2006 euro erano per prodotti esteri, nel 2009 invece 7 euro, quindi un euro in più speso per un prodotto non italiano. Il grafico successivo invece... Ah, questo invece ci dice quei 17 euro che abbiamo visto prima, nel 2000 che andavano all'agricoltore, 7,6 erano il reddito dell'agricoltore. Nel 2009 i 17 euro non ci sono più, ma ce ne sono 11,9 e poveretto l'agricoltore ne rimane soltanto 1,5, al netto dei contributi. Questi invece sono i 100 euro spesi per un prodotto agricolo lavorato, trasformato, quindi non il latte, non la verdura, ma il formaggio, quindi trasformato. Sui 100 euro all'agricoltore ce ne andavano nel 2008,5 euro, nel 2009 ce ne vanno soltanto 6. Tutti questi dati per diciamo dire che l'agricoltore se fosse arrivato a un andamento di un'agricoltura intensiva è perché non tanto per fare reddito, ma forse per rincorrerlo. Se Andrea vai nella slide successiva, questo è il prezzo del latte alla stalla con alcune differenze tra l'Italia e la Germania. Le due righe più sotto, che quasi praticamente si combaciano, sono i prezzi alla stalla dei due paesi. Le due righe più in alto sono i prezzi invece al consumatore. La riga più in alto di tutte è il prezzo del consumatore del latte in Italia. La riga a metà via è il prezzo del latte al consumatore in Germania. Come vedete, a parità di prezzo del latte alla stalla, il latte viene venduto al consumatore a prezzi nettamente differenti. Il grafico successivo fa vedere questo andamento dal 1976 al 2016. Qui si parla di Italia. La riga blu, quella più in basso che comunque cresce piano piano, è il prezzo del latte alla stalla. La linea rossa è il prezzo del latte al consumatore. Quella verde è il rapporto tra i due prezzi. Quindi mentre nel 1976 la differenza era minima, quindi il prezzo al consumatore era per l'80% il prezzo del latte, oggi il prezzo del latte a quel prezzo che voi trovate al supermercato è circa il 20%. Lo stesso grafico è sul suino pesante che viene prodotto in Lombardia. Qui vedete, ho trovato questi dati dal 2002 al 2009, ma sostanzialmente non è cambiata. Come vedete il dettaglio oggi di ho, è che la parte rossa più in alto ha quasi la metà del valore che gli rimane in tasca. Mentre l'agricoltore si sta parlando di 15-16% che è la riga blu in basso. Quindi, io sono arrivato dopo questa breve analisi per farvi capire in che contesto l'agricoltura si è mossa soprattutto economico negli ultimi anni. Ho pensato alcuni punti su cui la regione può incidere sull'agricoltura, perché probabilmente l'importazione non è tanto la regione ma a livello nazionale. E quindi ho esaminato alcuni punti che sono un problema sia per i cittadini ma anche per gli agricoltori. Il primo punto è quello della direttiva nitrati. Rispettare la direttiva nitrati per gli agricoltori non è facile. Come in tutte le cose in Italia si è arrivati 15-20 anni dopo rispetto agli altri paesi, come rivistono un po' la situazione delle quote latte. Altri paesi hanno già affrontato il sistema della direttiva nitrati 10-15 anni fa. Quando probabilmente il sistema finirà ci arriveremo vicini a finirlo noi. Allora, agronomicamente per un allevatore è molto difficile rispettare la direttiva dei nitrati. Non tanto perché non lo vuole fare o perché non c'è reddito, ma perché anche quelle pratiche agronomiche che ha detto prima il mio relatore fortunato, sono applicabili più facilmente a chi non ha carico zootecnico, quindi a chi non ha liquame. Chi ha liquame sostenere quelle pratiche agronomiche è molto molto complesso. Si può fare, però ad esempio non possiamo avere dei vincoli di non spandimento così rigidi durante il periodo invernale. Perché? Durante il periodo invernale le culture sono ferme in riposo vegetativo. La direttiva nitrati dice voi non potete spandere perché c'è più probabilità di pioggia, quindi se c'è la pioggia voi avete appena sparso e il liquame va nei fossi. E qui siamo d'accordissimo. Oppure i terreni sono bagnati e non assorbono una sufficienza il liquame che voi portate. Però quest'anno, quest'inverno non è mai piovuto, ha fatto quasi due mesi a non piovere e noi eravamo fermi. Poi per assurdo quando il bollettino regionale diceva potete andare, il giorno prima era piovuto, però il semaforo in teoria era verde. Quindi si va come a dei paradossi, diciamo. Il problema dei nitrati è anche e soprattutto quello che gli allevamenti sono sempre più concentrati in alcune zone della Lombardia, perché come abbiamo visto prima il numero degli allevamenti comunque è calato. Ci sono anche zone del Mantovano dove prima c'erano tanti allevamenti e adesso non ce ne sono più. Quindi forse bisogna anche cercare di incentivare una distribuzione di questo carico delle azioni. Perché un agricoltore che non ha liquame compra molto più concime chimico per ottenere determinate rese di cereali e non utilizza neanche un chilogrammo di liquame. A viceversa io ne uso forse troppo di liquame e dovrei cederglielo un po' all'agricoltore che non ne ha. Questo sulla carta potrebbe essere molto facile, in realtà non è così semplice. Quindi ho detto tra virgolette una banca del liquame, come una sorta della banca del tempo che voi avrete proposto alcune volte. Quindi magari incentivare uno scambio tra chi ne ha troppo e chi addirittura non ne ha. Le soluzioni tecnologiche per abbattere i nitrati ci sono. Sono forse un po' poco efficienti o meglio quelle efficienti costano davvero tanto. Si parla di 2-3 milioni di euro. Quindi capite bene che un'azienda anche che ha 200 vacche è difficile che spenda 2 milioni di euro solo per un impianto che abbatta i nitrati. E lo fanno soprattutto invece quelle grossissime aziende ancora di più o associato dei biogas perché recuperano un po' il costo dell'impianto producendo l'energia. E quindi ho messo come possibilità quella di avvantaggiare degli impianti consortili. Cioè siamo 2-3 elevatori medio piccoli, medio grandi, 2 milioni di euro da sole non ce la facciamo. Se siamo in 4-5 e veniamo un po' aiutati può darsi che possiamo metterci d'accordo e iniziare queste attività. Alumento della competitività degli allevamenti. Secondo me gli allevamenti italiani nonostante molti dicono che sono competitivi non lo sono abbastanza. O meglio noi abbiamo sempre cercato di aumentare la competitività aumentando i numeri. In Europa invece non si è fatto così. alcuni paesi non hanno voluto aumentare i numeri ma hanno voluto aumentare il benessere e la sanità degli animali. Questo non vuol dire che in Italia gli animali non stanno bene. Gli animali stanno bene anche in Italia. Però soprattutto per quanto riguarda alcune malattie infettive che non hanno niente a che fare sulla salubrità del prodotto che poi l'animale produce. Quindi sono malattie infettive che non si trasmettono nella carne, non si trasmettono nel latte. Ma siamo molto indietro. Ci sono alcuni piani di radicamento però non sono finanziati. E l'allevatore se non ha reddito come fa a dire spendo per sanificare la mia amandria? Se una vacca da latte in Italia mediamente dura 3-4 anni dalla sua nascita, questi non sono dati di alcune trasmissioni, sono purtroppo i dati dell'Associazione Italiana d'Allevatori, il numero di parti medio è 1,7, quasi 2. Spesso è dovuto al fatto di alcune di queste patologie virali che non permettono alla vacca di ingravidarsi, che causano danni respiratori e quindi calano sensibilmente la sua sanità e quindi gli animali durano meno. Tuttavia anche fare analisi di questo tipo è sempre più difficile. Infatti noi possiamo avvalerci anche di alcuni istituti, istituto profilattico per fare analisi microbiologiche, però i tempi di risposta sono sempre più lunghi, perché il personale è sempre di meno e i fondi a disposizione sono sempre di meno. E se si parla da una parte in Europa di ridurre l'utilizzo dei farmaci negli allevamenti tramite, cioè io ho una patologia in allevamento, dovrei portare il campione o di sangue o di latte a un istituto che me lo analizza, mi dice qual è quell'antibiotico che davvero funziona e io curo l'animale. Potete capire che questo processo si può fare se io ho la risposta in 24-36 ore, perché se no l'animale, cioè se io non curo l'animale, l'animale gli viene la febbre e poi può portare anche alla morte. Quando io porto un campione ad analizzare, se sono fortunato che la vacca si ammala il lunedì, forse il venerdì pomeriggio ce l'ho il risultato. Se sono sfortunato che la vacca si ammala il mercoledì, forse vado al mercoledì dopo, perché il sabato e la domenica non si lavora. Quindi si dà un antibiotico ad ampio spretto che può darsi che funzioni come può darsi anche che non funzioni. Pensi che addirittura, soprattutto su, io parlo nel mio caso, anche il vitello, come gli umani, piccoli, anziani, neonati sono i più vulnerabili alle malattie infettive. Spesso sta male più di uno prima di ottenere il risultato e di vedere qual è l'antibiogramma, qual è l'antibiotico che davvero funziona. Però purtroppo i tempi sono sempre più lunghi, sempre più dilattati e comunque tutte queste analisi hanno un costo. Si parla di 50, 60, 70 euro a singolo campione. Quindi non tutti gli allevatori sono anche incentivati a fare questo tipo di ricerca aziendale delle sue cose. Quindi magari anche incentivare questo tipo di cose potrebbe portare a un abbassamento della riduzione dei farmaci ma anche a un miglioramento della sanità. E secondo me è lì che si deve arrivare, è lì che si arriva all'aumento della competitività, non all'aumento del numero dei capi. Per quanto riguarda il PSR, come è stato detto prima, volendo ci sono una montagna di soldi a disposizione dell'Europa. Spesso si cerca di dare un po' poco a tutti a volte. Forse quei soldi che arrivano bisognerebbe cercare di darli davvero a quelle tre o quattro azioni che si pensa di incentivare davvero e soprattutto io ho messo il ripartimento delle risorse tra grandi aziende e piccole aziende. Se voi guardate i beneficiari del PSR, anche qui in provincia di Mantua, l'ultimo per l'ammodernamento delle aziende agricole, misura 4, ci sono state circa una novantina di aziende che hanno ottenuto il finanziamento in provincia di Mantua. 16 di queste hanno investimenti superiori al milione di euro. Sotto i 100 mila euro ce ne sono pochissime. Perché? Perché la burocrazia e i controlli che seguono il PSR, anche il piccolo allevatore che magari dovrebbe spendere soltanto 50, 60, 70, 80 mila euro, dice ma forse piuttosto delle scartoffe che devo preparare, il consulente che devo pagare e poi il possibile controllo che non si sa quanto mi fanno spendere per mettermi ulteriormente a posto, per avere un 30% forse se li ho ce li metto io senza chiedere aiuto, se non li ho non faccio l'investimento. Invece capite bene che chi spende un milione di euro, se anche ha delle spese di burocrazia o di successive controlli, è più spinto a chiedere il contributo. Quindi magari nei prossimi PSR cercare di inserire un contributo all'imprenditore in modo scalare a seconda delle dimensioni dell'investimento. Questo comunque senza scoraggiare i grandi investimenti che senza di quelli non si riuscirebbe a spendere tutti questi soldi che arrivano comunque dall'Europa. Un altro possibile metodo potrebbe essere quello dei sistemi di qualità. Non so quanto possa essere di aiuto per l'agricoltore perché comunque per esempio io che faccio una DOP è difficile associare a una DOP che è già un sistema di qualità, un ulteriore sistema di qualità. Però ci sono alcune realtà che anche sul latte l'hanno fatto. La regione Veneto è una delle più avanti su questo sistema e queste qua sono appunto un sistema che viene chiamato di qualità verificata che chi aderisce a questo sistema in cui un regolamento regionale di pratiche agronomiche o pratiche di trasformazione dei prodotti, chi rispetta queste linee guida può avere sulla sua confezione anche questo bollino e questa certificazione. Quindi magari anche la regione Lombardia se ne vale la pena o se individua un regolamento che vuole indirizzare determinate produzioni può utilizzare questo sistema. problema. Ora parlo del biologico perché spesso si dice che la risoluzione del problema è quello di trasformare tutte le aziende al biologico. Può essere vero, può anche essere non vero. Molti di voi avranno letto che la Danimarca già da due anni ha iniziato un programma per far diventare tutte le produzioni agricole, tutte le produzioni zootecniche biologiche. L'obiettivo lo raggiungono però dando non tanto soldi diretti di aiuto all'allevatore, all'agricoltore, ma incentivando il consumo di biologico. Quindi tutte le mense in Danimarca tutti i prodotti biologici, tutte le mense dei militari del ministro della difesa in Danimarca tutti i prodotti biologici. Si cerca appunto di sostenere questa trasformazione, questo passaggio. Tuttavia la Danimarca rispetto al nostro tipo di allevamento è forse ancora più intensivo del nostro. In Danimarca c'è i suini, mentre da noi una scrofa da circa 12-13 suini, in Danimarca sono arrivati anche a una scrofa per torrire 20-22 suini. Una vacca da latte, qui da noi il sistema di mungitura con il robot si sta, diciamo, in questi ultimi due anni sta venendo avanti. In Danimarca sono dieci anni che mungono con il robot. Quindi nonostante sia un allevamento molto standardizzato, molto industrializzato, ma perché il governo non vuole puntare al biologico? Cioè, invece, da noi in Italia sembra quasi che i due mondi siano completamente separati, cioè o un sistema bucolico, pochi animali, poche vacche e quindi bio, un sistema intensivo, tanti animali dall'altra parte. Loro cos'hanno? Hanno avuto in questi anni l'intuizione che non sono andati, come ho detto prima, ad avere un vantaggio competitivo nei numeri, perché i paesi nordici, soprattutto sui metri quadri per animale, sono i paesi più severi e i controlli ci sono davvero. Quindi l'agricoltore non poteva aumentare il numero di vacche, non poteva aumentare il numero di suini, però ha potuto il benessere animale. Quindi la Danimarca, l'intero paese indenne da tutte quelle malattie infettive che noi invece abbiamo in Italia. Loro tutto il paese, non solo una regione, tutto il paese indenne. Quindi, perché ho portato questo esempio? Perché secondo me, anche se si rimane all'agricoltura tradizionale, convenzionale, ma si inizia a tracciare un percorso ben definito, in cui non più l'aumento dei numeri, ma anche un aumento di questi appunto differenti modi per arrivare a un vantaggio competitivo, piano piano si arriva al biologico di conseguenza. Un allenamento danese usa un terzo, un quinto dei farmaci che usano un allenamento italiano, ma non perché vuole diventare biologico, perché è già di suo arrivato lì. E quindi capite bene che per loro il passaggio è molto facile, è molto breve. Per noi, nonostante i fondi diretti agli elevatori per trasformare la loro azienda da convenzionale a biologico siano dieci volte più grandi rispetto a quelle della Danimarca, c'è molta più diffidenza. ma ci credo, perché se ci sono tutte queste problematiche, perché? Una seconda provocazione la voglio chiamare, è quella dell'appunto, questa slide rappresenta la pubblicità che fa un noto prodotto di una industria italiana, che però viene prodotto in Repubblica Ceca, si chiama Gran Moravia, è una sorta di grana padano fatto in Repubblica Ceca. Come vedete, hanno tutta la filiera certificata, per tutto, numero di capi, numero di cucette per capi, rispetto del carico dei nitrati, addirittura hanno una certificazione sull'utilizzo dell'acqua nel processo produttivo, che dimostra che utilizzano mille litri di acqua in meno per produrre un litro di latte rispetto a un'azienda italiana. Dopo, lasciamo perdere che nella spiegazione c'è scritto che in Repubblica Ceca piove dieci volte di più rispetto all'Italia, quindi non si deve innaffiare. Però, insomma, diciamo che sulla carta è un prodotto biologico eccezionale, però viene fatto in Repubblica Ceca. E quindi anche un produttore di biologico italiano, un produttore convenzionale che viene spinto a trasformarsi in biologico, bisogna stare attenti, perché dopo, una volta che è diventato biologico, perché gli si dice fai più reddittività se diventi biologico, poi magari deve competere con un prodotto biologico, io non sto dicendo che non è biologico, che però ha costi di mano d'opera un decimo rispetto ai tuoi, costo dei terreni un ventesimo rispetto ai tuoi, costo delle tasse, meglio non dirlo. La stessa cosa che io vi ho portato l'esempio di un formaggio, c'è anche in una nota azienda che produce marmellate, l'arigone di Asiago, sono tutte marmellate dichiarate biologiche, e biologiche sono, però dal 92 hanno un'intera filiera di biologico in Romania. E non sto dicendo che non sia biologico, non sto dicendo che stanno falsificando i dati, perché non lo nascondono neanche, c'è anche sui loro siti internet, questo è il prese dei siti internet. E quindi bisogna anche riflettere su questa cosa che il biologico sia soltanto l'unica via di uscita, l'unica soluzione. Può esserlo, però diciamo che lo stesso bisogna salvaguardarci un po' dalle mille cose che ci arrivano sulle nostre tavole che non sono prodotte dal nostro territorio. Grazie. Vi ringrazio Paolo per la disponibilità e per la relazione molto interessante, gli chiedo se ci può lasciare le slide a disposizione, così poi verranno condivise. Data l'ora io chiuderei qui e ci appropriamo al pranzo. Vi ringrazio e vi rimando al pomeriggio in cui ci divideremo, come ho detto, nei tavoli di lavoro. Il pranzo è al bar qui di fronte, bisogna prima fare lo scontrino, prezzo convenzionato 10 euro e poi c'è il buffet in cui possiamo mangiare. Si riprenderà più o meno 14,30, 15.